Un pacchetto di proposte per realizzare l'auspicato cambiamento capace di generare una nuova visione di comunità. A presentarlo è il Circo L'Occhi Verdi Lega Ambiente Ponte Cagnano. Nell'istanza avanzata all'amministrazione comunale una serie di azioni da mettere in campo sul fronte ambientale, urbanistico, sociale e culturale attraverso il dialogo diretto con i cittadini nell'ottica di una partecipazione attiva ai processi decisionali. 4. Gli ambiti coinvolti, mobilità sostenibile, educazione ambientale, parco archeologico e tutela dei fiumi e dei corsi d'acqua. È nostra convinta intenzione, si legge nella nota di Lega Ambiente, partecipare attivamente al confronto auspicato e dare il nostro contributo affinché le scelte adoperate realizzino effettivamente e con efficacia le aspettative di cambiamento che l'intera comunità di Ponte Cagnano-Faiano attende ormai da troppo tempo. Grazie 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 Grazie